E ora andiamo a Fano dove nei giorni scorsi i carabinieri comandati da Maximiliano Papale hanno sorpreso tre giovanissimi nella zona del Pincio in possesso di piccoli quantitativi di marijuana e hashish. I ragazzi quindi sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro per possesso di stupefacenti per uso personale. Nel corso del servizio straordinario di controllo i militari hanno trovato anche un ventenne senza fissa dimora che bivacava all'interno di un esercizio pubblico in stato di abbandono situato in via Dante Alighieri. Sempre al Pincio martedì sera è stato denunciato un soggetto su cui gravava un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Fano emesso a suo carico a seguito di una rapina commessa la scorsa estate a Lido ai danni di un giovane. Invece lungo le principali vie di accesso alla città un trettottenne in orario notturno è stato sorpreso alla guida dell'auto in stato di ebrezza alcolica. Sono scattati il ritiro immediato della patente e una sanzione pecuniaria. All'esito del servizio sono state avanzate al questore tre proposte di avviso orale a carico di altrettanti giovani ai quali sostistano concreti elementi di pericolosità sociale.